Partiamo da questi vent'anni, è un bel traguardo. È un bel traguardo, faticoso ma un bel traguardo. Noi siamo arrivati a questo traguardo partendo dalla crisi, per cui abbiamo provato a convivere con la crisi e siamo arrivati a questo traguardo con soddisfazione. E anche riuscendo a evolversi negli anni, facciamo un po' la storia di questa attività. Euromec nasce rilevando una piccola attività in via Gallerani al Petriccio, un garage di 15 metri quadri, per trasferirsi poi in un fondo un po' più grande in via Le Toselli, per acquistare poi questa sede, passando da una gestione familiare da due persone a una gestione strutturata e che ora vede impegnati 20 collaboratori in questo momento in azienda. Per cui siamo soddisfatti di questo traguardo per noi e per i nostri collaboratori. Questi 20 anni, come dire, il vostro campo, le attività di cui vi occupate, come si sono evolute? Che storia è stata? Ma dunque, noi siamo partiti pensando di fornire un servizio a Siena, un servizio che mancava nel campo degli articoli tecnici industriali. Poi, piano piano, abbiamo avuto la fiducia dei fornitori di alcuni brand internazionali, come GEMU, BVF, Buonfiglioli e molti altri, e abbiamo cominciato a fornire servizi per la Toscana. Oggi la nostra azienda fornisce servizi per l'industria 2.0, per gli inceneritori, la manifestazione che faremo successivamente a questa intervista riguarderà proprio gli inceneritori, per l'industria farmaceutica, per l'industria alimentare, con i materiali innovativi che consentono di sviluppare l'industria nel rispetto delle norme e nel rispetto anche dell'ecologia. Lei ha parlato di crisi, avete convissuto con la crisi, di come è stato possibile superare questa difficoltà della crisi per la vostra azienda? Ma guardi, intanto grazie alla collaborazione dei nostri dipendenti collaboratori, abbiamo lavorato molto, abbiamo seminato molto, girando per tutte le aziende della Toscana, abbiamo trovato settori nuovi, noi siamo partiti con 10 aziende che servivamo nel 1997, siamo arrivati a questo giorno e serviamo 5.050 aziende, quindi in tutto questo c'è stato un lavoro capillare di ricerca, di contatti, di studio delle aziende che potevano avere bisogno della nostra opera e questo ci ha consentito in qualche modo di superare la crisi, crisi che ha investito soprattutto l'edilizia, quando ce ne siamo accorti abbiamo cercato anche altri sviluppi e altri sbocchi. Parliamo di futuro, ovviamente è il giorno di festa, chiamiamolo così, questo però non si può non pensare poi al futuro, a altri vent'anni e più magari. Assolutamente, noi col decennale non vogliamo fare una festa che guarda al passato, ma vogliamo fare una festa che guarda al futuro, magari anche ai prossimi 10-20 anni. Abbiamo già, voglio dire, la seconda generazione che è entrata in azienda, è il figlio del socio fondatore, che per noi rappresenta anche questa una cosa molto importante. Confidiamo di arrivare sia ai 30-40 anni, perché noi anche oltre, lasciando a chi ci succederà un'azienda sana, un'azienda che si sviluppa al passo con i tempi, un'azienda che possa servire le aziende che sono rimaste a lavorare nel tessuto toscano. Stasera chiederemo ai politici, ai nostri politici che ringraziamo di essere intervenuti a questa nostra festa, di guardare con attenzione anche il mondo dell'industria e il mondo del lavoro. La nostra città è vocata al turismo, la nostra città è bellissima, ma dobbiamo pensare anche che non c'è solo il turismo, c'è una dimensione per tutto. Noi stiamo lavorando per dare una dimensione anche al lavoro e alle industrie. Per chiudere, proviamo a dare un consiglio magari alle giovani generazioni che si affacciano al mondo del lavoro, al mondo dell'imprenditoria, anche sul territorio che, come ha detto lei, ha un certo tipo di vocazione, ma non può non avere una vocazione poi industriale e imprenditoriale soprattutto. Ma il consiglio è quello di lavorare sodo, di essere formati e informati. Non è più il momento di portare, voglio dire, in giro solo mero lavoro, bisogna portare in giro iniziative, idee, materiali nuovi, materiali innovativi che ci consentano di far sviluppare l'industria. Noi siamo un'azienda di servizi al servizio dell'industria. Il consiglio che posso dare è quello di non stancarsi, ma di apprendere e di portare in giro materiali innovativi, non cadere nell'errore di fare del lavoro il solito tran tran. Presidente, una realtà importante di questo territorio, un bel traguardo raggiunto e naturalmente anche lo sguardo al futuro. Ma è un esempio di come la realtà del territorio senese non è solo a vocazione turistica, ma ovviamente anche a vocazione imprenditoriale. Assolutamente sì, intanto mi preme ringraziare Mattia, Emiliano e Massimo per l'invito. Credo sia un bel traguardo arrivato, siamo arrivati a un bel traguardo. Perché comunque se si pensa bene, 20 anni di questa azienda sono stati passati per lo più in un periodo di crisi, insomma la crisi del 2008 ha colpito globalmente il nostro paese e anche la nostra provincia. Loro in questi anni sono riusciti a crescere, a migliorare, ad aumentare i fatturati, aumentare anche la presenza di personale. Credo e come dicevi te, questo territorio può vivere anche di altro. È importante che viva di turismo, di agricoltura, di qualità, ma è importante anche che si specializzi in aziende basate sulle tecnologie che possano anche esportare tecnologia e pensiero nel resto del mondo. Loro sono questo esempio, sono riusciti a raggiungere traguardi importanti e quindi mi sembrava doveroso venire qui a concedergli questo importante riconoscimento. Alle istituzioni si chiede sempre attenzione per il mondo del lavoro, per il mondo dell'imprenditoria. Cosa si può fare secondo lei? Cosa può fare la provincia in questo momento? La provincia sta vivendo un periodo di per sé complesso, però credo che in questo territorio vada esorcizzato anche il lutto di una crisi, oltre a quella generale, la crisi della città che comunque ancora accrea una cappa sopra questa città. Dobbiamo cercare di risvegliarsi, di redere tutti insieme che un futuro è possibile. Questi imprenditori lo hanno dimostrato, lo stanno dimostrando, stanno lavorando nell'oggi però guardando al domani. Quindi credo che Emiliano e Mattia, che sono i soggetti più giovani guidano questa società che la vogliono rilanciare verso il futuro e credo che dovrebbero essere presi come esempio. Quindi cercare di lavorare anche in ambiti diversi da quelli che sono gli ambiti tradizionali e cercare di andare ad esplorare anche quei settori tecnologicamente importanti dove comunque Siena ha una forte rilevanza perché loro lavorano molto con le aziende legate al farmaceutico, quindi qua abbiamo un territorio ad alta vocazione tecnologica e biologica e quindi anche questo tema andrebbe ancora più valorizzato. Un'occasione importante questa a Siena, un compleanno importante di Euromec, ma di cosa parlirete stasera? Guardi, siamo stati invitati qua per portare alla luce del sole una modifica sulla parte filtrante non da poco, nel senso che fino ad oggi i filtri potevano performare fino ad un massimo di 250 gradi, invece con le nuove tecnologie BWF possiamo arrivare a performare fino a quasi 1000 gradi, questo permette abbattimenti di costi di utilizzo e soprattutto benefici per l'ambiente, quindi non abbiamo più problemi di diossine, non abbiamo più problemi di polvere, non abbiamo più problemi di acido solforico, di acido fluoridrico, è una tecnologia che fino a una decina di anni fa era nelle mani dei petrolchimici, quindi dei grossi gruppi, invece adesso poco per volta si sta spandendo verso i primi impianti di incenerimento e l'idea è portarla sempre di più non soltanto verso i grossi gruppi ma verso gli utilizzatori finali. Ecco, dal vostro osservatorio, quello diciamo tecnologico, qual è lo sviluppo degli ultimi anni nel mondo del lavoro nel vostro settore ovviamente e cosa possiamo provare a prevedere per il futuro? Noi siamo nel campo dell'ecologia, quindi da una parte siamo fortunati, dall'altra l'impoverimento tecnologico dell'Europa si sta facendo sentire perché tutte le grosse produzioni si stanno spostando all'estero, fortunatamente noi siamo un gruppo molto grosso quindi siamo su tutto il mondo e questo ci dà una mano, in Italia bisogna lavorare, i grossi gruppi se ne stanno andando, l'energia costa troppo però c'è voglia di fare, ci sono tanti giovani che vogliono ritornare per dare quel quid in più che gli altri non danno, io ho 40 anni quindi sono uno di questi sono tornato dall'estero e sicuramente l'Euromec con Massimo, Emiliano e Mattia sono un esempio di come la Toscana possa migliorare e fare sempre di più. Un bel traguardo raggiunto che festeggiate oggi ma ripercorriamolo un po' questi anni di attività intensa che vi ha portato a questo bel traguardo. Sì, buonasera, 20 anni di attività, 20 anni di duro lavoro ma di tante soddisfazioni io sono il socio, uno dei tre soci fondatori diciamo il più giovane quando siamo partiti ero poco più che ventenne quindi posso dire a onore del vero che tutta la mia vita lavorativa si è svolta all'interno non di queste mura ma delle mura da cui siamo partiti, le mura di un locale di poco più di 20 metri quadri, un garage nel 97, partiti da lì io poco più che ragazzo con tanto impegno, con la buona guida che ho avuto da parte dei miei due soci di cui uno è mio padre, siamo riusciti ad arrivare ad oggi dopo 20 anni con una struttura solida, una struttura che si è spinta molto oltre i confini della nostra provincia, la nostra splendida Siena fino ad arrivare ai confini della Toscana e a superarli anche. questo in due parole ho sintetizzato quello che è successo all'interno di questi 20 anni in cui non sono come dicevo prima mancate le soddisfazioni ma non è mancato assolutamente il sacrificio da parte non solo di noi soci ma di tutti i nostri dipendenti, i nostri collaboratori che in questi anni ci hanno dato una grossa grossa mano e oltre a questo tutti i nostri clienti che mi sento pubblicamente di ringraziare che ci hanno dato la fiducia in questi 20 anni di attività e che ci hanno consentito di arrivare dove oggi siamo. Se si guarda indietro, qual è stato il segreto di questi 20 anni? Di successi sostanzialmente? Il segreto, se di questo possiamo parlare, è stata la nostra dedizione, la nostra perseveranza nel voler raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti e fare di tutto affinché fossero raggiunti. Questo perché una cosa che i miei soci, mio padre mi ha insegnato è che bisogna porsi degli obiettivi. Questi obiettivi tanto più alti sono, tanto più è difficile raggiungerli e tanta maggiore è la soddisfazione quando li raggiungiamo. Soddisfazione non solo personale ma soddisfazione per tutti i nostri collaboratori, per tutta la nostra azienda che ad oggi posso dire di aver contribuito a fare qualcosa di buono, spero, e ad essere, ripeto, dove siamo arrivati. Parliamo di futuro. Cosa vi attendete? Cosa vi proponete per il futuro? Per il futuro ci proponiamo sicuramente di ampliare il nostro bacino di utenza, ovvero il nostro target sia come tipologia di clienti e sia come ampliamento di zona di copertura. Quindi ci impegneremo per ampliare la nostra rete commerciale esterna. Già nell'arco di questo 2017 lo stiamo facendo con dei buoni, degli ottimi, anzi risultati, dovuti anche a una profonda ristrutturazione in quelle che sono le nostre mansioni e il nostro organico all'interno dell'azienda. e quindi l'obiettivo per i prossimi 20 anni sarà di non solo mantenere il trend che abbiamo fino ad oggi ma, se possibile, alzare un pochino l'indicatore verso l'alto. Poi vediamo dove arriviamo. La sua è una storia particolare perché lei è nuovo socio però ha lavorato qui, lavora qui da tantissimi anni quindi come dire, ha vissuto la crescita di questa importante attività imprenditoriale. Che crescita è stata secondo lei? Ma è stata una crescita graduale, non facile visto il periodo storico ed economico che affrontiamo. Abbiamo comunque avuto la fiducia di tanti partner, fornitori e clienti che ci hanno aiutato in questi anni. dal mio avviso è stato un passaggio anche complesso dal bambino che lavorava come dipendente a essere parte della compagno societaria e è una bella sfida quotidiana direi. Una sfida che continua, una sfida verso il futuro, mi immagino. Cosa vi immaginate voi per il futuro? No, no, per noi è importante continuare. Questo speriamo che sia solo l'inizio. Ecco, questa non è tanto una celebrazione dei 20 anni passati quanto una sfida per i 20 anni che verranno. Ecco, senza un bel dubbio. 20 anni, un bel traguardo. È duro ma siamo arrivati a 20 anni. Lei si immaginava di, non dico temporalmente, di arrivare a 20 anni ma di effettuare questa crescita graduale ma poi alla fine esponenziale? Nel programma all'inizio c'era, forse non in questi termini, però insomma siamo partiti già con l'idea di non fermarsi a nessun traguardo, di andare sempre più avanti e speriamo di vadere ancora più avanti di ora, però siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto in questi 20 anni. Anche perché la vostra è una storia costruita in un momento difficile, di crisi economica, di grandi difficoltà, però siete forse l'esempio di come queste difficoltà possono diventare opportunità, no? Come si dice? Sì, è vero, io sono stato il primo per circa un anno che ho tenuto aperto la prima attività nel primo locale e poi il periodo era molto difficile perché verso il 97, fine anni 90 noi abbiamo avuto fortuna e abbiamo avuto capacità e un po' di vista lunga e siamo arrivati a questo punto. E i prossimi 20 anni? In pensione. No, dicevo i prossimi 20 anni dell'attività quali saranno? Ma io ora sto pensando più a me personalmente perché sono arrivato e già sei anni sono in pensione quindi penso che a breve lascerò ai giovani e quindi... Largo ai giovani. Largo ai giovani, io ho altri impegni fuori da qui. Largo ai giovani, io ho altri impegni fuori da qui. Largo ai giovani, io ho altri impegni fuori da qui.